Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video Oggi faccio quello che ormai praticamente avete visto ovunque, ovvero quella specie di tag, non so se si possa definire così in cui io rispondo alle supposizioni che avete fatto su di me Infatti se mi seguite su Instagram, lo sapete perché siete tra le persone che mi ha fatto le domande vi avevo chiesto appunto di dirmi quali erano le supposizioni che facevate su di me che avevate su di me, quindi che riguardavano non soltanto la mia vita da lettrice ma anche la mia vita privata, il mio carattere, il mio temperamento, la mia storia e così via È un modo carino per conoscerci un po' meglio ma soprattutto insomma è anche un modo per vedere che cosa ho trasmesso io a voi quindi quello che voi pensate di me riguardo a cose che magari non ho spiegato in maniera esplicita e vedere appunto se poi alla fine avevate ragione oppure torto se avevate azzeccato le vostre previsioni, le vostre supposizioni oppure no Quindi ho raccolto nel cellulare tutte le cose che mi avete lasciato e quindi direi di cominciare subito La prima supposizione che mi è arrivata mi ha fatto veramente sorridere ed è non alzi mai la voce quando ti arrabbi Non so se questa è l'impressione che do io attraverso i video ma in realtà è assolutamente sbagliato Io alzo la voce quando mi arrabbio, la alzo anche quando non mi arrabbio quindi figuriamoci quando sono arrabbiata per qualche motivo Anzi è una cosa che mi rimprovera spesso il maritino Perché appena inizia un piccolissimo screzio io subito alzo la voce e lui mi dice Non c'è bisogno di urlare Però io sento il bisogno, sono una persona molto focosa Sento tanto la rabbia e quando la sento devo esternarla in questo modo Quindi sono una persona che alza la voce in maniera anche abbastanza irritante Sei sempre stata la cocca di papà? Sì, direi di sì, questo è assolutamente giusto Ho un rapporto speciale con il mio babbo Ve lo faccio capire da un aneddoto Quando ero piccola, se non lo sapete insomma io non so se l'ho mai detto Comunque sono cardiopatica Quindi quando ero piccolina piccolina all'incirca tre anni sono stata operata al cuore Più di una volta, la prima volta ero proprio neonata Comunque a tre anni sono stata operata al cuore E la mia mamma mi racconta sempre che ovviamente i miei genitori si davano il cambio per stare con me E quando la mia mamma andava via e arrivava il mio babbo Io la salutavo contenta Ciao mamma, ciao mamma Quando invece andava via il mio babbo per dare il cambio alla mia mamma Allora io piangevo disperatamente perché non volevo che il babbo se ne andasse Ovviamente è un rapporto bello con entrambi i genitori Però anche di carattere sono molto simile al mio babbo E veramente ci capiamo su tutto E diciamo che sento il bisogno ogni tanto di mettermi ancora in collo a lui Di farmi abbracciare, di stare un po' a farmi coccolare da lui Quindi sì, ho un bel rapporto con il mio babbo L'amore per il vintage te l'ha trasmesso tua nonna Magari questo è sbagliato perché io purtroppo non ho avuto le nonne presenti nella mia vita Nel senso che la mamma della mia mamma è morta quando io ero veramente piccolissima Quindi ho praticamente non neppure un ricordo Soltanto qualche fotografia con lei Mentre l'altra nonna, no, è morta qualche anno fa Comunque per gran parte della mia vita c'è stata Però purtroppo non era la classica nonna super affettuosa con i nipoti È sempre stata abbastanza distaccata Quindi non si è creato quel rapporto così d'affetto, così forte Che di solito si pensa insomma di avere con dei nonni Che sia tra un nipote e una nonna E quindi no, il mio amore per il vintage in realtà è nato semplicemente crescendo Con il passare del tempo mi sono resa conto che c'era uno stile che mi piaceva E che sto portando avanti in maniera abbastanza tranquilla Nel senso che se un giorno poi i miei gusti cambieranno di nuovo non ci sarà niente di male Comunque per il momento mi sono innamorata della moda negli anni 50 Degli anni 40, 50, 60 insomma Quindi mi piace acquistare abiti che siano, ricordino quegli anni Sia vestiti che gonne in particolare E in più nel momento in cui mi sono avvicinata al mondo della moda sostenibile Chiaramente mi sono resa conto di quanto acquistare vintage Quindi acquistare capi usati Fosse anche appunto ecosostenibile Perché per l'appunto non va a sostenere la fast fashion Quindi le due cose sono un po' unite Quindi da una parte l'amore per una moda che c'era qualche decennio fa E dall'altra l'acquisto anche di capi usati perché riesco a trovare delle vere perle E basta questo Quindi è già una cosa che è nata così Ecco è stato un amore che mi è nato da dentro All'apparenza innocua ma determinata e intraprendente Una tosta che sa il fatto suo Allora non lo so se all'apparenza io sono innocua Però sicuramente sono una che sa il fatto suo Nel senso che sì, questa è una descrizione esatta di me Io sono una persona molto determinata, molto decisa, molto selettiva Di solito insomma agisco in questa maniera Quindi direi che sì, il mio carattere è abbastanza forte Anche se ovviamente come tutte le persone umane Ho dei momenti di debolezza, di indecisione Dove mi avvalgo poi dell'aiuto delle persone che mi stanno intorno Sei dolcissima Questa non so quasi lo prenderei come un complimento Comunque non lo so se sono dolcissima Questo me lo devono dire gli altri Però diciamo sì, sono abbastanza dolce Ecco non sono rude, mi piacciono gli abbracci Mi piacciono i baci, mi piacciono le coccole I film romantici e piangere guardando un film per l'appunto Ti apri difficilmente con chi conosci poco Giustissimo, non mi apro facilmente con chi conosco poco Ma soprattutto sono molto selettiva quando incontro qualcuno che non conosco Quindi prima di aprirmi lo devo analizzare bene Devo essere sicura che la persona che ho di fronte merita la mia fiducia Quindi è per questo che nella mia vita non ho sei miliardi di amici Ne ho pochi, selezionati, però con loro vado tutta me stessa Fai tante cose e tutte bene Vero e falso? Faccio tante cose? Sì, assolutamente, ne faccio troppe Diciamo, quindi non so, faccio teatro con il mio gruppo Organizzo spettacoli, faccio yoga, scrivo Da poco ho aderito a un nuovo progetto Del quale magari vi parlerò insomma con altre ragazze che amano leggere Gestisco il mio canale su youtube e così via Insomma sì, di cose ne faccio tante Tutte bene, non lo so, non credo tutte benissimo Però io ci metto il massimo dell'impegno Ovvio per qualcosa magari sono un po' più portata Per qualcosa meno Dipende dai periodi Cerco di dare il meglio e di riempire la mia vita di cose Che mi piacciono, che amo fare, che mi rendono la vita più ricca Perché non sopporto guardare indietro alle settimane e ai mesi trascorsi E pensare, oddio non ho fatto niente Sono solo andata a lavorare, sono stata a casa E basta, ecco Ho bisogno di riempire la mia vita di cose che ovviamente amo fare Quindi alla fine, che vengano bene e che vengano male Io mi diverto quando le faccio, quindi va bene così Sei una persona creativa? Non so, in realtà no Non sono una persona molto creativa Nel senso che per quanto riguarda la mia vena artistica Non è che sia proprio spiccatissima Ovviamente mi piace scrivere Credo di riuscire a farlo abbastanza bene Anche se ovviamente si può sempre migliorare Però per esempio se mi mettete a dipingere O a suonare uno strumento Sono un pochino più incapace Sono meno portata, ecco diciamo Però insomma sì Mi piace portare un po' di creatività nella mia vita Quindi per esempio Una cosa semplice, stupida, piccola Ecco, più che stupida può essere il bullet journal Che mi diverto moltissimo a decorare praticamente ogni giorno Oppure per esempio Anche se magari può non sembrare così Perché i video su YouTube sono abbastanza semplici Quindi registro un video E poi semplicemente taglio i pezzetti Che non mi sono Che non mi piacciono Dove ci sono errori e così via Ma in realtà editare i video Creare i video, editarli È una cosa che mi piace moltissimo E che faccio anche nel mio tempo libero Creando dei video Insomma con varie tematiche Per i vari spettacoli che facciamo Vi faccio un esempio Un anno abbiamo fatto uno spettacolo Una gara di canto Dove appunto c'erano diversi cantanti Che si esibivano sul palco Per ognuno di questi Avevamo creato dei video Con delle ballerine prese da una scuola di danza Della nostra zona Che venivano riprese contemporaneamente Da tre telecamere diverse E poi ho montato tutte e tre le riprese In modo che venisse insomma una cosa Un po' ecco Questo balletto venisse ripreso Da più punti di vista diversi Che mettessero in risalto insomma Parti diverse della danza Quindi è stata per esempio Quella è un'esperienza molto stimolante Sono cose semplici Però mi diverto a farle Sei ordinatissima Verissimo Io sono ordinatissima Assolutamente vero Io quando ero in casa Dei miei genitori Fortunatamente sono stata Sempre Perché ho due sorelle Quindi insomma Il confronto c'era E sono sempre stata Quella che veniva presa da esempio Ma perché non fate come la Martina Che ha sempre la camera in ordine Io assolutamente sì Sono sempre stata ordinata Addirittura Avevo Ho sempre avuto i libri di scuola Missi praticamente In ordine di altezza Quindi avevo I volumi più alti Nella parte sinistra E poi man mano Quelli più piccoli Tanto che Quando andavo per esempio Alle medie Che erano vicine a casa mia Sì mi ero dimenticata Un libro a casa Chiamavo la mia mamma Chiedendole di portarmelo E le sapevo dire esattamente Tipo è il terzo Partendo da destra E così via E lei Si stupiva E mi diceva Come fai a ricordartelo Perché io comunque Mettendoli tutti i giorni In la stessa posizione Conoscevo anche a memoria Dove erano messi sullo scaffale Per farvi capire Quindi sì Sono ordinata E sono contenta di esserlo Perché è una cosa Che mi dà tanta sicurezza Avere le mie cose Belle in ordine Ogni tanto mi piace anche Buttare tutto all'aria Ripulire tutto Rimettere tutto a posto Sono cose che Mi rilassano Mi rilassa farle Ed è strano Perché poi alla fine Ho trovato un marito Che invece è assolutamente Confusionario Lascia tutto in giro Quindi ogni tanto Mi manda i pazzi Però è così È il karma evidentemente Sei molto disponibili con tutti Forse appare un po' troppo seriosa Un po' professoressa Invece credo che tu non sia così Anzi credo che tu sia Più sbarazzina che donna Un bacio perché in ogni caso Sei dolcissima Ascoltarti è istruttivo Grazie mille Allora io non lo so Se all'apparenza Io posso sembrare un po' professoressa Forse sì Però in realtà Credo che non sia solo apparenza Un po' lo sono veramente Sono sempre stata una ragazza Molto diligente Impegnata Quello che faccio Cioè le cose che devo fare Le faccio con impegno E con serietà Sono sempre stata brava a scuola Ho sempre studiato Ho fatto i compiti Diligente Con quelli che erano i miei compiti Però allo stesso tempo Non è che tutti gli aspetti Della mia vita Sono così In cui sono precisa Ligia e così via Mi piace anche Non so Essere un po' più sciolta Un po' più Tranquilla Quindi mi piace Non so Ridere insieme agli amici Divertirmi A volte anche Passare la giornata in pigiama Ecco può essere qualcosa Che va contro Il sentirsi Un po' professoresse Quindi probabilmente Ho entrambi gli aspetti Dentro di me Che convivono E che tiro fuori In base alle occasioni Per me odio i gatti Verissimo E li odio Non li odio Non è che li odio Nel senso che Li vorrei vedere morti Ovviamente Però Non c'è feeling Tra me i gatti Assolutamente no Nel senso che Se io mi avvicino Loro mi guardano male Mi graffiano Quindi Se non c'è Diciamo Amore Non c'è amore Da entrambe le parti E quindi preferisco Di gran lunga i cani Io il gatto Non l'ho mai avuto Perché la mia mamma E la mia sorella Sono allergiche Quindi non l'ho mai avuto Però C'è più feeling Sicuramente Con i cani Quindi direi che Gatti No Non fanno per me Non hanno un carattere Che Mi piace più di tanto Preferisco avere un cane Che mi accoglie Quando sono a casa Piuttosto che un gatto Che mi guarda storto Alla fine Secondo me Conosci il maritino Dai tempi delle superiori Eravate amici Prima di fidanzarvi Sbagliato Totalmente sbagliato No Non ci conoscevamo Alle superiori Anzi il maritino Dice sempre Che secondo lui Se ci fossimo conosciuti Alle superiori Non saremmo mai andati d'accordo Perché Eravamo abbastanza opposti Nel senso che Io ero proprio Secchiona Cioè Detta proprio Dicendo la verità E lui invece no Proprio Assolutamente Odiava la scuola In tutte le sue forme Quindi Forse Non è che Avremmo avuto Tanto da condividere Ma non Saprei dire Perché In fondo Chi lo sa Magari sarebbe nato Comunque l'amore Comunque no Ci siamo conosciuti Dopo Io frequentavo L'università Firenze Un'università che poi Ho lasciato E Grazie ad un amico In comune Perché lui Suona il basso E Diciamo che Suonava in un gruppo All'epoca In cui Il batterista Era un mio amico Il cui batterista Era un mio amico Quindi Diciamo Grazie a questo amico In comune L'ho conosciuto Ci siamo piaciuti Praticamente subito Quindi non c'è stata Una vera e propria amicizia Prima Perché Appena ci siamo conosciuti Abbiamo cominciato Anche a uscire da soli Un paio di volte C'è stato il primo bacio E da lì Siamo stati Sempre insieme E questo è avvenuto Quasi nove anni fa Perché tra un mese Facciamo nove anni insieme Oh mio dio E quindi Niente Diciamo che Abbiamo vissuto Solo una storia Una storia d'amore Bella Bellissima Ovviamente Ti piacciono i gialli Mi piacciono i gialli Però preferisco I thriller storici Se dovessi proprio dire Il genere che mi piace più di tutti Sicuramente I thriller storici Non che non abbia mai letto gialli I gialli mi piacciono Però Diciamo che dopo un giallo Poi devo sempre Fare pausa E leggere un altro genere Mentre dei thriller storici Potrei Non stancarmi mai Penso che per te La famiglia e i legami Siano molto importanti Assolutamente vero La famiglia per me È una cosa importantissima Perché io Ho un rapporto meraviglioso Con la mia famiglia Di origine Grazie al cielo Ma anche con la famiglia Del mio marito Quindi Sono veramente Contenta Ecco di questo Ed è quello che cercherò Di riproporre anche Nella famiglia Che creerò io Insieme al maritino Ovviamente Sperando insomma Di avere questa Questa fortuna Sono importantissimi Perché sono La mia Diciamo Il mio faro Ecco Io senza di loro Non riuscirei a fare niente Sono le persone A cui vado immediatamente Da cui vado immediatamente Se ho Qualsiasi tipo di dubbio O di problema E sono loro Che riescono sempre A risolvermelo Quindi I miei genitori Le mie sorelle Sono qualcosa Che nonostante ovviamente Si discuta Come in tutte le famiglie Succede Però senza di loro Veramente La mia vita sarebbe Vuotissima Così come il maritino Che è la persona Che ovviamente Più mi conosce E che Con la quale condivido Praticamente Tutta la mia vita Quindi Si Per me è importantissimo Hai fatto il liceo No Non ho fatto il liceo Ho fatto un istituto Quindi linguistico aziendale Che è una scuola Che mi è piaciuta moltissimo L'ho fatta Più che volentieri Ho studiato inglese Francese e tedesco Anche se del tedesco Non ricordo assolutamente nulla Mentre inglese e francese Si Ho avuto dei bravissimi professori Che mi hanno Secondo me Hanno proprio guidato Diciamo La mia conoscenza Nella direzione Che io volevo Perché Per quanto riguarda Comunque l'indirizzo Che avevo scelto Quindi lingue C'era tutta Diciamo La parte Sia letteraria Che economica Quindi ho imparato Anche nelle varie lingue Non so Fare una fattura Scrivere lettere commerciali Lettere formali E così via In più Avevo diritto Avevo economia Ho fatto tanta matematica Che sono materie Che mi piacciono moltissimo Matematica Mi è sempre piaciuta tanto Tanto che avevo anche pensato Di continuare Su questa strada Poi anche all'università Poi non l'ho fatto Quindi sono felicissima Della scelta che ho fatto Perché poi mi è tornata Utilissima anche Al lavoro Perché oggi Quello che faccio Diciamo Tengo contatti con Clienti In lingua Quindi utilizzo Chiaramente l'inglese Il francese Quelle che so E mi sono tornate utili Un sacco di nozioni Che avevo Che ho assimilato Ecco Durante le scuole superiori Ti piace il miele? Sì mi piace il miele Assolutamente sì Mi piace Soprattutto perché vivo Grazie al cielo In una zona Dove ci sono tantissime Aziende agricole Quindi cerco di comprarlo Di produzione locale Cerco di comprarlo biologico E così via Quindi mi piace Bene l'ultima supposizione Se non ho sbagliato È credi in Dio Sì Credo in Dio Assolutamente Sono cresciuta in una famiglia Cattolica Quindi Niente Per me è sempre stato Abbastanza naturale Ecco Trovarmi all'interno Della fede Ovviamente negli anni Non ho mantenuto Il mio livello di partecipazione Sempre uguale Abbastanza normale Ho attraversato anche Periodi in cui dubitavo di tutto Periodi in cui non avevo Assolutamente voglia Di partecipare a niente Che riguardasse la fede La chiesa E così via Crescendo poi Ovviamente ho maturato Un'altra idea Quindi Attualmente Sono tornata A pieno regime All'interno Della vita Della mia Religione Nel senso che Insegno catechismo Faccio parte Della vita parrocchiale Ecco Del mio paese E Di un gruppo Di giovani Che si riuniscono Ogni tanto Insomma per Parlare Per stare insieme Per divertirsi insieme Ma anche per approfondire Quella che è appunto La nostra religione Trovo tanto conforto Nella preghiera Conforto Nella fede E Devo dire che Questa cosa è cresciuta Tanto in me Soprattutto Quando Da quando Abbiamo deciso Di intraprendere Il cammino Dell'adozione Si sono riuscita a trovare Proprio nella fede La forza Per andare avanti E per Per dire Se ho davanti a me Questa prova Significa che io ho anche La forza per superarla Se no nessuno Me l'avrebbe messa davanti E questo è stato per me Qualcosa che mi ha Completamente sconvolta Mi ha dato una nuova Consapevolezza di me Della mia vita Delle mie potenze Potenzialità Tra un po' di tempo Potrebbe essere divertente E ovviamente Spero che Anche a voi Sia interessato Conoscere qualcosa Su di me E magari Ecco Ricredervi Su qualcosa Che pensavate Oppure confermare Che vi avevo Trasmesso attraverso Questa telecamera E noi allora Come sempre Ci vediamo prestissimo Con un altro video Ciao Ciao